Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e Valle di Scalpe. Buonasera e bentornati al consueto appuntamento con gli eventi di Promoserio. Ad Albino, giovedì 6 aprile, all'interno della rassegna Shakespeare is Now, scene di drammaturgia contemporanea, andrà in scena lo spettacolo Polvere, di Il Servo Muturo Teatro. L'appuntamento è alle ore 21 presso l'auditorium Benvenuto e Mario Cuminetti. All'interno della sedicesima edizione di Albino Classica, sabato 8 aprile, a Ranica, andrà in scena il recital chitarristico che vedrà protagonista il musicista Claudio Piastra. Il concerto avrà inizio alle ore 21 presso l'auditorium Villa Camozzi. Franca Pezzoli, arte contemporanea di Clusone, presenta la mostra personale Dipinti di luce, il ricordo dell'artista Giorgio Pasinetti. La mostra sarà visitabile fino al 18 aprile presso l'alterie di Clusone. Domenica 9 aprile, all'auditorium Modernissimo di Nembro, si terrà la terza edizione del Festival della Danza, stage di danza classica e moderna. La manifestazione è un'occasione di scambio culturale ed educativo nell'ambito del mondo della danza e delle sue discipline accademiche. Sarà visitabile fino al 1 maggio presso il MAT, Museo Arte Tempo di Clusone, la mostra Il disastro della diga del Gleno, foto e documenti inediti. L'allestimento rappresenta un'importante testimonianza del tragico cedimento avvenuto il 1 dicembre 1923. Torna anche con questo fine settimana l'appuntamento con i percorsi turistici e culturali con degustazione. Sabato 8 aprile, a Rovetta, ci aspetta una visita inedita a una collezione privata alquanto particolare, quella del signor Silvano Bettineschi, che da anni colleziona mezzi militari che hanno partecipato alle grandi battaglie del Novecento. Domenica 9 aprile, a Gorno, trascorreremo invece una giornata immersi nella natura, con un divertente laboratorio adatto a grandi e piccini per scoprire le tradizioni e gli antichi metodi della saponificazione. Sempre domenica 9 aprile, una visita inedita ai luoghi dell'archeologia industriale costruiti sulla riva destra del fiume Serio ci porterà alla scoperta del paese. Per l'occasione andremo alla scoperta degli edifici del cotonificio Pozzi e Lecta e a seguire del piccolo borgo di Ponte Selva. La prenotazione a tutti questi percorsi è obbligatoria chiamando il numero 342-3897-672. Per questo appuntamento è tutto, vi ricordo che potete trovare tutte le informazioni sugli eventi in Val Seriana e in Val di Scalve visitando il nostro sito www.valseriana.eu Arrivederci e buona serata! La prenotazione della settimana in Val Seriana e in Valle di Scalve Grazie a tutti!